Buongiorno signor Biesetto, un campione mondiale di pasticceria come lei, come vede il palettone? Il palettone è uno dei dolci più buoni al mondo, per non dire il dolce più buono al mondo. È un dolce che chiunque lo assaggi rimane colpito e affascinato e intrigato anche a volte, perché ci sono delle cose oggi molto creative, anche nel palettone ci si è messi a fare delle cose che suscitano l'attenzione e l'entusiasmo della gente, anche per variare. Quindi direi che il palettone, senza ombra di dubbio, oggi è uno dei dolci che nel mondo ha maggior successo. Ma molti dolci di tradizione italiana, pensiamo al tiramisù, così come a varie tipologie di croccanti che appartengono alla nostra tradizione, hanno un successo, risposto a un successo in tutto il mondo. Noi quest'anno abbiamo pensato, dato che piaceva a me da piccolo mangiare il palettone con una tavoletta di cioccolato, abbiamo pensato di metterlo dentro, così evitiamo ai clienti di dover fare il lavoro. Ecco che abbiamo scelto due origini di cioccolato, un Venezuela per l'impasto che è nero e un Ecuador, quindi siamo in Sud America, grandi fave di cacao, molto fruttato da una parte e un po' speziato dall'altra. Quindi abbiamo creato un palettone che devo dire che questo giorno stia ripetendo un'attenzione particolare. Perfetto, io gli faccio i miei complimenti. Grazie. Le auguro buona fortuna. Grazie. Grazie. Grazie.